Con Sauro Bartoli, comandante del nucleo elicotteristi di Arezzo, oggi è arrivato qui a Montevarchi l'elicottero, ha fatto anche un po' di spettacolo per i bambini, ma qual è la vostra attività che è molto importante? Sì, allora noi, il nostro territorio di competenza è tutta la regione toscana, parte delle Marche e parte dell'Umbria. Abbiamo in dotazione due elicotteri, questa è una B206, monoturbina, poi abbiamo anche un elicottero 412 che invece è un biturbina, l'equipaggio al completo del 412 sono due piloti, un tecnico di bordo e due aerosocorritori che noi impieghiamo per il soccorso con recupero con il verricello. In quali interventi di solito siete chiamati in causa? I nostri interventi che sono quelli di prettamente di competenza del Corpo Nazionale, soccorso a persona, trasporto di pazienti, ricerche persona, antincendio boschivo, recupero in mare, in montagna, dove c'è bisogno. Quante volte siete già intervenuti più o meno nel corso di questo 2009? Nel 2009 abbiamo fatto circa 200 interventi, abbiamo salvato 23 persone, abbiamo fatto una trentina di missioni antincendio boschive.